Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O sangue preziosissimo di Gesù, prezzo infinito di riscatto dell'universo, bevanda e lavacro delle nostre anime, che difendi la causa dell'umanità dinanzi al trono della suprema misericordia. Noi profondamente Ti adoriamo. Vorremmo, per quanto è possibile, compensarti dell'ingratitudine e degli oltraggi, che ricevi continuamente da tanti peccatori, che ardiscono di bestemmiarti. Sii sempre benedetto, o sangue di infinito valore. E sia mille volte benedetto Gesù che Ti ha sparso per la nostra salvezza. O sangue di redenzione e di vita, di unità e di pace. Sorgente di grazia e pegno di vita eterna. Fa che tutti i cuori e tutte le lingue Ti possano lodare ora e sempre. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.